L'ennesima morte bianca nelle Marche è anche una tragedia familiare. Un operaio 45enne Davide Gentili è rimasto vittima di un incidente sul lavoro lunedì a Visso, investito dal Bobcat guidato da suo zio, titolare dell'azienda. L'infortunio mortale si è verificato davanti alla ditta di scavi di Pietro Cardurani. Davide Gentili si trovava nel piazzale della ditta, in via Roma, in una zona interessata da frane a causa del terremoto. Erano da poco rientrati dalla pausa pranzo quando il Bobcat in retromarcia lo ha colpito in pieno alla testa. Sul posto è stato chiamato il 118, ma ormai per l'operaio non c'era più nulla da fare. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti del Lavoro dell'Asta di Macerata per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. Su disposizione del sostituto procuratore Enrico Barbieri è stato poi disposto il sequestro del Bobcat su cui potranno essere fatte analisi tecniche successive. Solo una settimana fa era deceduto Doriano Maggiori, 63 anni, colpito da un tronco mentre stava lavorando alla pulizia degli argini del fiume Potenza a San Severino Marche. L'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi commenta così le ultime tragedie. Morire per questo è davvero la cosa più triste. Io credo che eliminare totalmente questo tipo di situazioni sia ben difficile perché sappiamo benissimo che chi opera in qualche modo un disguido, un qualcosa che magari non dipende neanche direttamente dalle persone può sempre succedere. È chiaro che il lavoro che dobbiamo tutti mettere in campo è quello di evitare nel maggior modo possibile che queste cose avvengano e su questo mettere in atto le azioni che possono andare incontro a questo obiettivo. Noi come Regione Marche e anche io come assessore della sicurezza sul lavoro abbiamo ricostituito il comitato regionale sulla sicurezza un paio di anni fa, non si riuniva dal periodo pre-Covid in modo che l'INA e l'INPS, tutti i nostri dirigenti insieme al mondo sindacale, all'associazionismo diffuso dell'impresa si vedano costantemente per mettere in atto tutte quelle che sono le possibili prevenzioni sui luoghi di lavoro ma anche i controlli che ovviamente devono poi effettuarsi per capire se queste situazioni effettivamente sono messe in campo e se tutto quanto è in ordine. Sappiamo benissimo purtroppo che una parte di lavoro ancora è un lavoro sommerso, in parte ovviamente, ma queste disgrazie non è detto che succedano solo là dove il lavoro è sommerso, può succedere benissimo purtroppo ai noi anche quando tutto è sotto controllo, a volte sono delle fatalità, a volte sono delle distrazioni, a volte sono invece magari anche mancanza di sicurezza, tutte queste cose insieme devono essere affrontate quindi la raccomandazione che io posso fare ovviamente a tutti coloro che operano nei cantieri è la massimizzazione personale, spesso dipende da questo.